Fu donna dei suoi tempi ma fu anche una donna moderna a modo suo a Costanza d'Altavilla dedicato un nuovo libro di Pasquale Amel che cerca di sconfessare alcuni luoghi comuni il servizio di Mario Azzolini. Il termine medievale spesso è usato erroneamente in tono negativo come se comprendesse un'epoca fatta soltanto di oscurantismo, guerre sanguinarie, persecuzioni e buio culturale. A quei lunghi secoli dobbiamo molto di quel che siamo adesso grazie anche a personaggi che hanno lasciato una significativa e positiva impronta. È il caso dell'imperatore Federico II definito Stupormundi, figlio di una donna che seppur per breve tempo fu imperatrice. A lei il saggista e direttore del Museo del Risorgimento di Palermo Pasquale Amel ha dedicato il saggio edito da Rubettino Costanza d'Altavilla Biografia eretica di una imperatrice. Un'accurata ricostruzione storica che cerca di sconfessare le genere e luoghi comuni consideratisi nel tempo. Costanza fu donna dei suoi tempi ma sape essere a modo suo audace e moderna mettendo in luce un grande intuito e significative qualità politiche. È una donna molto fragile che però in certi momenti della sua vita assume delle responsabilità importanti, contraddittorie rispetto a questo carattere che sostanzialmente è mite. È una donna che ha bisogno di una famiglia, ha bisogno di una sua vita personale. È un libro nato dall'interesse di scoprire il personaggio. Io mi ci sono messo proprio lavorando sul personaggio perché immaginavo che dietro questo mito ci fosse qualcosa, qualcosa di poco chiaro.